Può trovare il gol da lì, eh? Il portiere ha il suo bel da fare per sistemare la barriera. Attenzione pericolo, un gran gol da calcio di punizione. Difesa non proprio impeccabile. Cucchiaio perfetto. Direi nulla da fare per il portiere. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol. Grazie.